Noi collegamo con Ben, vediamo che non fosti che sei nato a Ben. Ciao Ben! Chi è? Non fosti che sei nato a Ben? Ciao Ben! Ciao a casa, sei nato a Giovedì e sei nato a Giovedì e sei nato a Giovedì. Ma non siete sempre Ben! Non siete sempre Ben! Non siete sempre! Un po' è andato a lavorare! Devo andare a lavorare! Io mi sento a lasciare bene questa cosa che cammina! Non c'è ragione, Ben! Hai ragione, Ben! Io un po' di schiare bene! Io penso alla salute! Ho potuto dire una... Conte, Orlando! Io non ti lascio raggiare, ti lascio raggiare i piccoli! Se no può... può procciare la fame! Ho morito della fame! Certamente un cavallo! Ho morito della fame! Bene ma come fai con la zona le delcia?! Come fai, come è il campo?! Come so' s�ennato? Bene! Se vanno veniva intesoムuki! Sei in t vår! Condate! Sudeltate bene! Suteltate bene! Io Cabinet! un amico ne salutami lontano, ne salutiamo e basta, però dopo paghiamo e vediamo, quando finisce tutte cose ne abbracciamo. E ora chi sta facendo bene? No, niente, ora mi sto tirando e non va a casa, non va a casa. Ok bene, io sto qui, va bene, sto tirando direttamente a casa, ok bene, una buona giornata. Ciao bene, ciao.